So the big question that we have in the relationship between intellectual property and generative AI is, is there something creative or are they just stochastic parrots? Ho messo una foto, un'immagine che ho creato io con da lì di stochastic parrots, mi ha dato questa roba qua. E' creativo? C'è qualcosa di creativo oppure stochasticamente a un certo punto tirano fuori qualcosa di buono? Perché vabbè a furia di chiedere cose a un certo punto un'immagine che mi piace la tirerò fuori. E' già lì. Is creativity more in the algorithm or more in the dataset used for training? Quindi la creatività sta più nell'algoritmo che risponde alle mie domande e mi tira fuori l'immagine o è più nelle immagini che lui ha dovuto digerire per imparare a fare quella cosa? Ed è anche lì il dibattito perché adesso tutti dicono vabbè cacchio brava, bravi questi sistemi di intelligenza artificiale, grazie. Mi hanno, non so, hanno usato tutto il mio database di fotografie e adesso certo che sono così bravi a fare delle foto che sembrano foto. hanno imitato la, io ci ho messo 50 anni, non so, Getty è una delle agenzie che sta facendo causa stable diffusion e probabilmente vincerà perché se la sta giocando abbastanza bene, non lo so, vedremo. Dice, ma io ci ho messo decenni a crearmi il mio database di immagini, questi fanno scraping massivo, lo usano per addestrare la loro intelligenza artificiale, che ha imparato così bene a fare delle foto sintetiche per cui adesso la gente non viene più da noi a comprare le nostre. Ah sì, allora adesso ti faccio un mazzo così di fronte al giudice. What is the role of human user, l'altra domanda, what is the role of human user of generative AI system, cioè in tutto questo c'è colui che crea l'algoritmo, colui che ha dato, ha fornito più o meno consapevolmente il database per addestrarlo, ma poi ci siamo noi utenti che buttiamo dentro l'input e controlliamo l'output. Is there a copyright on this creation? And who is the right owner? Quindi la grande domanda a cui dovremmo arrivare oggi è risposta. Siamo in ritardo mostruoso immagino. No? Va bene, ok. Quindi ci sono dei diritti, c'è un copyright, e già lì è una domanda da 6 milioni di dollari, e poi una volta che c'è chi è il titolare di questi diritti, perché sapendo chi è il titolare, poi sappiamo a chi dobbiamo chiedere il permesso. L'altra questione che dobbiamo affrontare, the other important issue, is the level of autonomy. What level of autonomy do these systems have? Can we say work created by a generative AI, or is better to say work created with a generative AI? Because it is not a so irrelevante issue. You know, because we say by or with. Io sento spesso dire, un'opera è creata dall'intelligenza artificiale, ma in quasi tutti i casi c'è un essere umano che ha controllato il processo. Ok, can we talk about work created by an AI entirely and autonomously, or are they always work created by a human being who gives instruction to the AI systems? How long will it be like this? Cioè per quanto tempo sarà così? Quando a un certo punto davvero i sistemi di intelligenza artificiale iniziano a essere molto autonomi in questa cosa? Già adesso è che nella maggior parte dei casi per avere qualcosa che sia creativo e interessante ci vuole il controllo dell'essere umano. Vi faccio un esempio. La copertina del mio libro, la vedete qua in piccolo in basso nelle slide. Questa l'ha fatta Paolo Dalprato, che è un creativo, cioè nel senso è un fotografo, lui viene dalla fotografia anni e anni di carriera come fotografo, adesso si sta muovendo verso la creazione di immagini con l'intelligenza artificiale che è un altro mondo, anche se a volte sembrano fotografie, si chiamano sintofoto, mi ha detto nel gergo. Vabbè, ha gentilmente concesso di collaborare al libro gratuitamente fornendoci due immagini, perché ce n'è anche una di retro copertina, e io sono sicuro che, io ritengo molto belle, sinceramente, sono sicuro che se non avessi chiamato lui e mi fossi messo io lì con Dalio, con Stable Diffusion, avrei creato fuori anche io un'immagine da mettere in copertina, ma sarebbe venuta una cosa molto meno interessante, molto meno originale e creativa di questa. Quindi vedete che c'è un discorso anche lì di competenze, di gusto, di sensibilità, e lui mi ha detto che per arrivare a questo risultato sono almeno dieci passaggi, cioè chiedi, ti arriva un output, glielo ridai, ti ritorna un altro output, gli chiedi di modificare un aspetto, ti ritorna un altro output, non ti piacciono i colori, gli chiedi di stare su una certa tonalità, su una certa scala di colori. Ecco, la roba lì non è un'attività intellettuale di un essere umano. Ok? Questo, is better, quindi non è tanto una questione di by or with, io parlerei sempre di with, ma forse dobbiamo ragionare su supervised or not supervised. Better talk about supervised AI versus not supervised AI, cioè sistema di intelligenza artificiale creativa e generativa che lavorano non supervisionati, cioè non c'è il controllo, non c'è l'input da parte dell'essere umano, non c'è controllo sull'output. Questa è una foto che avevo fatto esattamente tre settimane, no, ormai purtroppo un mese fa, ero in vacanza a New York, era il 25 di agosto, al MoMA, nella hall d'ingresso principale, dove solitamente ci sono installazioni che girano, per questo periodo, forse l'ha già tolta, non lo so, c'è Graphic Anadol che propone questo, si intitola unsupervised, cioè è una proiezione continua, infatti c'è la gente che si siede lì, di immagini che fluiscono, non supervisionate, cioè è un software che crea e pian piano impara. Non solo, tu puoi andare in segreteria, al desk del museo, e chiedere una, se ti è piaciuto in particolare una, gli hai fatto la foto, c'è un QR code, e puoi ottenere la versione NFT, non fungible token, che ce ne facciamo fino a un certo punto, però vabbè, è una cosa di gran moda, per cui ho portato a casa un pezzo di questa opera, che è stata creata dalla macchina, cioè Graphic ha semplicemente, Graphic Anadol, ha semplicemente messo in piedi la struttura, e allora, bella domanda, perché, allora, il public domain, è, perché effettivamente sì, in questo caso, l'installazione è tutelata da un diritto d'autore, perché c'è il nome di colore, l'installazione sì, come l'esempio del, no, di quell'organo che viene suonato dalla, oppure in Sardegna c'è, Shola, che fa delle sculture di pietra, utilizzando una pietra che c'è solo in Sardegna, che suonano col vento, se ci vai, molto, molto belle, sono belle a livello estetico, nel senso che, sono delle sculture un po' alla giù pomodoro, cioè un po' futuristiche, no, Shola dovrebbe essere, però suonano, nel senso che sono tagliate in un certo modo, e quando passa il vento della Sardegna, che insomma ha la sua bella energia, suonano, Ferruccio Scoscio, non mi ricordo il nome, Pinuccio, ecco, Pinuccio Shola, e quindi sicuramente c'è un copyright sulla scultura, ma sui suoni fatti dal vento no, e qua potremmo dire la stessa cosa, c'è un copyright sul software, perché è software, ok, c'è un copyright sull'installazione in generale, ma sulle immagini che vengono sputate fuori, probabilmente no, probabilmente pubblico dominio, perché qua sono not supervised, che è una cosa diversa da quello che abbiamo, dall'esempio che vi ho fatto prima, dalle copertine del mio libro, che sono dieci passaggi, guidati da un essere umano, ok, gestiti e scelti da un essere umano, comunque vado avanti, prego, si trova anche nella letteratura, se vedi, no, anche io mi sono confrontato con un ragazzo che si firma, lui fa la stessa cosa con la musica, lui si chiama Ober Lunar, lo trovi anche su Instagram, lui ha anche un dottorato in ingegneria informatica, quindi il ragazzo, cioè sa 28 anni, 30 anni, lui fa la stessa cosa con la musica, cioè crea del software, che poi è open source, quindi in realtà parte da cose che sono state anche scritte da altri, e lo imposta in modo tale che vada solo, ho visto anche una sera, lì non c'entra lui, ma un'altra cosa ancora, un DJ set in cui c'era il DJ, e un'intelligenza artificiale, cioè lui miscelava i suoni usciti dall'intelligenza artificiale con un brano musicale, quindi sono forme di cre... e lì si dice no... Non ti sentono però, forse è meglio che parli qua, perché se no non ti sentono a casa, arriva, arriva il professor, perché mi sa che... Allora, il problema di usare supervised, unsupervised, o not supervised in questa accezione, è il rischio di creare un omonimo rispetto all'uso che se ne fa di questi due termini nel contesto del machine learning per l'addestramento dei sistemi, che in un caso hanno degli esempi già classificati, il supervised, nell'altro hanno dati non giudicati, non valutati dagli esperti umani. In italiano si dice sicuramente supervisionato, non supervisionato, però temo che... Si possa creare confusione. Allora, sicuramente c'è un discorso di controllo, che è un termine assolutamente usato, e di autonomia, cioè se il software è autonomo nella generazione di queste immagini, oppure segue un programma molto ben specifico. però è un tema interessantissimo, perché di fatto queste immagini sono molto molto simili, direi equiparabili, a il testo che un chat GPT può produrre, e quindi staremo per dire in maniera convincente, poi è chiaro che è un giudice che decide ogni volta, che qualunque testo venga prodotto da chat GPT non è copyrightabile. Perché è vero che c'è un prompt, ma anche qui c'è sicuramente qualcosa. Allora, nel testo prodotto da chat GPT non c'è solo... Cioè, quello che io chiamo appunto intervento umano creativo, che adesso ci arriviamo ancora meglio, è non solo l'input, ma anche il controllo sull'output. Cioè, io... Io chiedo, non so, ecco, le immagini. Se io vado su da lì, ad ogni input mi dà quattro immagini. Già il fatto che io su quattro scelga una, è bravo, esatto, rimane il judgment. Ma poi non solo, per arrivare al livello di questa immagine qua di Paolo Dalprato, devo ridagliela, devo dirgli questo sì mi piace, ma la voglio con dei colori pastello e non dei colori... Eh, ce n'è. Certo, è vero che il livello di competenza si sta abbassando molto, e quindi il dubbio su... Oh, questa roba qua è davvero creativa o meno. Ok. E quindi dobbiamo un attimo pensare se siamo pronti ad un copyright che non è più antropocentrico. Questa è la provocazione. Perché, come dice Roberto Caso, questo è un giurista italiano, l'ha scritto nel marzo 2021, il copyright nasce, soprattutto con l'italiano, in cui ho tradotto copyright law, ma se noi parliamo di diritto d'autore, ok, author's rights, sarebbe in English, is a different concept from copyright. Copyright is the right to make copies, ok, diritto di fare copie, reproduction right, potrebbe essere, in italiano il nostro diritto di riproduzione, diritto di utilizzo. The Italian and French and German author's rights is broader, è più largo, è più ampio, comprende anche, vedete, i moral rights, that are personality rights, diritti della personalità, il diritto d'immagine è un diritto della personalità. Tutti questi diritti, copyright, and in particolare moral rights, like other personality rights, come tutti i personality rights, are anthropocentric, è una parola greca, non so se per degli anglofoni arriva, però anthropocentric è con l'uomo al centro, ok, human centric, human centric. They were developed with the human being in mind. Although many copyright law, included in Italian one, do not define the founding concept of author, creativity, originality, and expression, expressive form, and work, there is no doubt that they were conceived in a technological era that does not new AI. C'è un errore di traduzione, scusate. Quindi, sono concepiti questi concetti in tre secoli di storia del diritto d'autore, dal 1700 ad oggi, in un mondo in cui non si pensava alla creazione automatica, automatizzata dalla macchina. E conclude Roberto Caso dicendo the adaptability of this concept is relative. cioè, l'adattabilità di questi concetti è relativa, quindi forse il diritto d'autore non ce la fa ad arrivare fino lì, ce l'abbiamo già esteso alla sua massima elasticità in questi secoli, siamo arrivati a un punto in cui forse o lo rivisitiamo completamente oppure qualcosa rimane fuori. e questo è veramente il dubbio di questi tempi. So, a new revolution for copyright law rethinking the idea of creativity itself. C'è un po' il tema, this is the topic of our lecture today. While the digital revolution has led, because digital revolution was a very, had a big impact on copyright law, because this has led us to have, to rethink the concept of copy and reproduction because in the digital revolution we have, before digital revolution only some subject had the possibility to make copies, to make reproductions. so the publisher, the, 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 the music, music production entities. In the digital age everyone can make copies just having a, a small, smartphone or computer. Okay? So this was a very important revolution with a big impact on the copyright law. And to manage new ways of using content because everything now is used, every content now is used from the same dispositivo, scusa, device, the same device and the same media. Tutto passa attraverso la rete e tutto viene fruito da un unico device. Che era una cosa che negli anni pre-digitali era diverso. Io vengo da quel mondo lì. La musica l'ascoltavi sul disco con lo stereo o col Walkman, i video te li guardavi sul VHS oppure al cinema, cioè c'erano dei luoghi e dei modi per fruire ogni tipo di opera. Adesso è passato tutto, si è compresso tutto in un unico mezzo di comunicazione e in un unico dispositivo. Questa roba è stata rivoluzionaria per il copyright. Okay? Ma ripensare proprio il concetto di creatività che è una cosa sfidante anche da un punto di vista filosofico. Dimmi. Sì, sì, siamo proprio su un piano molto filosofico. Che cos'è creatività? Sì, però visto che siamo nel mondo del diritto d'autore cerchiamo di ricondurre le categorie tipiche del diritto d'autore. Cioè, su che cos'è creativo e non è creativo abbiamo pagine e pagine di giurisprudenza sia anglo-americana che italiana o europea che spiegano e però sempre dando per scontato che ci fosse un uomo di mezzo. Okay? Okay. Eh, certo. Allora, sì, sì, allora, se arriviamo a un punto tale in cui ripeto perché così sento lo studente dice se arriviamo a un punto davvero in cui accettiamo che la creatività non è più solo umana e ci stiamo arrivando si pone un problema che non è appunto solo del diritto d'autore ma è di vario di più ampio respiro anche forse potremmo dire filosofico su chi è titolare di questi diritti chi fa cosa che è un po' il dubbio che si stiamo ponendo anche sulla responsabilità di fatti che hanno una conseguenza giuridica derivanti da sistemi di intelligenza artificiale come le auto a guida autonoma, no? L'incidente creato o in cui diciamo coinvolta un'auto a guida autonoma chi risponde? Chi ha fatto il software che aveva un bug e si scopre dopo? Chi ha fatto chi ha messo in moto quella macchina un giorno di pioggia in cui era sconsigliato le linee guida? Cioè, una serie di questioni che nel mondo degli umani erano già state digerite da anni e anni di stratificazione di giurisprudenza qua ci sono dubbi perché quando ci sarà la famiglia falciata sulle strisce pedonali da un'auto a guida autonoma perché il software è andato in tilt o perché semplicemente l'auto ha dovuto evitare un'altra famiglia e quindi per evitare quella ha dovuto prendere sotto un'altra e quindi giustamente questi fanno causa lo stesso perché noi siamo i danneggiati ma io l'ho fatto perché ho dovuto evitare un'altra situazione che era più grave là c'erano 20 persone e io ho schivato le 20 e ne ho ammazzate 10 quindi sono stato bravo e no perché nel mondo degli umani non funzionerebbe così e quindi anche su quello dovremmo avere risposte figurati qua dove andiamo su un piano che è ancora più appunto evanescente dedicato che è quello della creatività però vado avanti così vediamo se vi do le risposte grazie a tutti